Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video Se per caso anche a voi interessasse venire qua a giocare con noi e fare un video insieme Mi raccomando non esitate a contattarci sui nostri social Saranno? Non sbagli per piacere Ok, ottimo Detto questo, vi lascio al video Va bene Bonfio, oggi siamo senza Jack Ma giocheremo io e te Finalmente Finalmente Adesso ci procuriamo Cosa giochi te Bonfio oggi? Sì, mi venga il mazzo Gargoyle, atleta di timone mitico D'Armarte Santum Selvaggi Io, questo qua, leggo il mio Delta, assassina di Trilopoli Come cazzo sei? Umbre, Bobnar, Saint Logos Sì Te ne hanno dato per la nostra Non ce l'ho, non si ho dimenticato caso Ce l'ho io, se lo devo dare dietro le quinte o tutto Speriamo Ricordati che voglio muovire la cazzo Ho fatto il disastro E ti fai 800 Mono Inizio io Io, inizio che la tengo Anch'io Gioco ombre Strano, di solito le ombre Gioco questa Boh No Eh, deposito nascosto Deposito nascosto Ok Devo leggere Io la tengo una k E ottengo un embre Ok Io parto di Marte Agente Umano Illusione racconto su una mia creatura non malta e amica e natura creatura non malta amica. Ok. Il gioco. Drone cognitivo. Si. Il gioco e chi vuole una carta dalla mia mano. Posso imporare quella carta calcolata per soldi una creatura e puro una carta. Non sono pronto però. Si. Non attivo secondo effetto. E passo. Dichiaro logos. Si. Il gioco titanico meccanico. Ok. Che è di espontare le chiavi di uno. Si. Se si trova sul fianco. Lui. Posso archivare ho la cima del mio mazzo. Ho una carta. Si. Nella chiave di scarti. Faccio questa. E poi gioco. Questo qua. Giusto per ottenere una. Ok. Come si chiama? Ricarica? Ricarica da. Ah. Cerca da tagliore. Si. Ricarica. Si. E passo. Vai poi. Io. Ho fatto una barra giocata. Chiamo selvaggi. Metto giù il seme di neppente. E poi chiamo. Curiosità. Ottengo un'amba. Distruggo tutte le categorie scienziato. Ah. Ok. Cioè vincidi tutte le mie insomma. E anche la mia. Che però il suo l'ha fatto. E termino. Termini così. Si. No. Io dichiaro. Ombre. Si. Riprendo l'archivio. Ok. Quindi gioco. Nuovamente quella che avevo archiviato grazie allo scienziato. Riprendi la cambra e archivi. Esatto. 1. 1. Sono diventati logo. I miei. I miei. I miei ombre. 1. Poi gioco. Quella che abbiamo. Eh. Questa. Questa. Ok. Eh. Si. Traccia rossa. Traccia rossa. Che se alla fine del turno. Non ho giocato. Nessuna creatura. Rubo 1. Rubo 1. Gioco. Lei. Rifugio segreto. Omni. Sacrifica. Rifugio segreto. Le mie creature. Fino al prossimo turno. Esatto. E poi gioco. Questa qua. La piccola nif. La piccola nif. La piccola nif. Che quando uso la carta di fianco a lei. Posso rubare una. E ha schieramento. Omega. Esatto. Quindi. Sono costretto a finire il turno. Vai. Io ti chiamo. Sanctum. Si. Mi corrego. Ti chiamo. Marte. Si. Prendo gli archivi. Si. Usi il seme di Nepenthe. Per riprendermi il drone cognitivo. Mhm. Gioco il drone cognitivo. E archivio una carta. Senza attivare la fatta secondaria. Si. Gioco. Ricordi. No. Niente. Giochi. Foramonia. Battaggia. Ok. Elf poter fatto come quello. Raccolgo. Si. Col mio. Agente d'incognito. Chi stordisce? Nessuno. Perché non posso. Si si. Vai. Perché devi la regolare. Estinzione. Ah. Mi spacchi tutto. Scelgo una creatura. Distruggo ogni creatura che condivida almeno un tratto con quella creatura. Quindi dico elfo doveva morire. Si si. Potevi dire anche ladro. Perché tu non hai nessuna. Ma eh si. Ottengo un vinco. Madonna. No però. Madonna. Si. Ma ti ho fatto il mercato. Termino. Termini così. Così. Allora. Io faccio. Logos. Riprendono. Archivio. Poi gioco. Questa. Alfa. Ok. Che è molto carina. Dice. Eh ragazzi. Che altre. Ah. Tengo due. E' molto carina. Non pensavo a questo. E archivi due. Casuale. Quindi tirami un dato. Che no. C'è di tutto. Due. E uno. E uno. E uno. E uno. E uno. Ah che puro. Mio o tuo. Eh tuo. Bene. Ho ottenuto. Ah. Devo ottenere anche la sua ember. Non ho messo. Si. Non ho messo. Non ho messo. E passerai turno. Vai. Ok. Io riprendo gli archivi. Si. Ti chiamo santum. Si. Ah io sono in cianca. Si si si. Gioco. Scudo. Tappata. Tappata eh. Scudo consacrato. Che è un artefatto con azione. Scelgo una mia creature. In cui non viene infietto danni per questo turno. Si giro la confraternità che credo conosciate tutti. Pro gioco. Un altro fatto. Un nuovo. Molto bello. Si chiama. Muraglia. Che. Ha. Un effetto passivo. Quindi. Tutte le mie creature. Su un fianco. Tengono più due forza. Quindi. Gioco. Tengono più due forza. Agente umano. C'è la protetice. Che ha di proie e provocazione. E a fianco ci c'è anche un custode della porta. Quindi ti rubo tutto. Fing a torno in linea 5. Esattamente. Te amo. C'è lì. Va vini. Ricordati che lui ha un 7. E lui ha un 4. E lui ha un 4. Vengono maglia. Termino il mio turno. Si. Io dichiaro. Ancora Logos. Ancora Logos. Riprendo i. Gli archivi. Gli archivi. Allora. Fine turno. Ok. Dopo lei. Se non esce un fianco. Quindi archivi. Uh. Bello. Archivi di nuovo. Uh. E poi. Passo. A fine turno. Grazie a. Bimbi. Peschi. E poi. Alcimina. No. Non potevo pescare. Ah. Nevevi 6. Ok. Ma è carina. Come. Come combo. Che ho. Si. Chiamo Sanctum. Chiamo Sanctum. Ok. Cosa c'è. Uso. Scusate. Della cambio luce. Uso. Lo scudo. Si. Suscello. Quindi. In questo turno. Non le vengono infatti i danni. Ok. Gioco il cavaliere grigio. Che ha schieramento. Si. Gioco il combattimento raccordo. Posso ripristinare. No. Scusa. Ho sbagliato. Scusate. Prima la colgo. Sia con shell che con custode. Ok. Ah. Così dopo poi. Mi prendo due lambe. Quindi vado in check. Gioco il cavaliere grigio vicino a shell. Quindi prende più due. Eh. Scusa. Vabbè. Li permette di stoppare un'altra. Posso che bisogna shell. Perché lui ha di puoi. Si. Shell combatte contro il bibliotecario titano. E shell non subisce danno. Perché. Eh. Per effetti di scudo. Ok. E termino così. E sei in check. E sei in check. E sei in check. Sei in check. Sei in check. Sei in check. Questa battuta. Più o meno. Non ti cazzo. Adesso. Io vado. Eh. Io scelgo bra qua sto giro. Si. Riprendo l'archivio. Ok. Vado forse. Allora. E' grosso. Si. E' grosso. Lui quando sparo i danni. Si. E pure lo scarto. Ok. Vai. Tu forgi pure. Io forgio la prima chiave. Ok. Non è entrato in check. E ho sopportatamente. Ma. Io chiamo Marte. Si. Mi sposto un po' di incontro. Il suo vinco è finito da buona. Si. L'abbiamo fatto ma. Esatto. Ho tenuto in conto ma non volevo togliere. Mi piaceva. Mi piaceva. Mi piaceva. Gioco. Il verme mentale. Si. E il touch pc. Si. Quindi chiamo ovviamente Marte. No. Ho detto. Ho detto. Ok. Raccolgo. Si. Con entrambi. Ok. Quindi prendi due lambe. Chi stordisci? Devo stordire per forza? Si. Anche una mia vero? Si. Non Marte. Questa volta si è obbligato. Ok. Stordisco shell. Estordisco. 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 2. Poi. Omni. Usa il sigillo della confraternità. Lo scanto per poter usare tutte le mie creature Sanctum. Quindi destruno shell. Che purtroppo viene esalita ma non lo scopriamo. Raccolgo con il custode della porta e il cavaliere grigio. Ok. Dice creatura. Si si. Stai rileggendo. Non è un problema. Comunque attacco non subisce danni per l'armatura. Si si. Attivo shell per effetto di cavaliere grigio. E combatto il direttore. Il ricercatore antics. Termino il mio turno. Shell non prende danni per l'armatura ovviamente. Ok. Ricordati che torci pensieri è un nero quattro. Si. Perché non prende danni per l'armatura ovviamente. Se ce l'hai. Ciao sul fianco. Per muraglia. Per muraglia. Io dichiaro. Logos. E uso eric ancora. Fortunatamente è venuto qui il dado. Mi servono due. Una melodica. Me le posso. Grazie. Si si. Vai. Sempre uno sei. Si. Cinque. La penultima. Questa. Si. Ah no. Ho una carta in meno. Quindi sicuramente. Si. Ah no. Uno cinque. Non devi farmi vedere. Devono essere archiviate. Archiviate è vero. E un'altra. Vai. Però come tu scarpa. Una sei. Non c'è. Va bene. Una due tre quattro cinque sei. Va bene. Aspetta. Va bene va bene va bene. Poi gioco. Questo com'è? Quisiride. Guardo tre carte. Sembra molto ponderale. Quisiride gioco. Guardo tre carte. Sembra molto ponderale. Quisiride gioco. Allora. Allora. Pensando sugli archivi scusi. Niente niente. Quindi ho scantato l'anello. Esatto. E più sangue. Poi sono in check. Poi attivo questa. Così il prossimo turno la notte delusione. Vai pure qua. Ok. Perché ho una di sua. o una. Ed ora ho ottenuto quel coso. Allora. Si. Con l'agente umano. Si. Attivo. L'elusione di Lump. Ok. 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 Con il termo alimentare. Ma come decisi? Scusi. Ci ha attaccato. Ah no. Scusi hai ragione. Scusi. L'elusione non subisce danni. Mi scusi. Scusi. Non la tesoula. Con il termo alimentare. Si. Attacco Crump. Si. Lui muore. Si. Mi scusi solo un danno. E il mio muore. Si. 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 Poi. Azione. Si. Catturo di uno dal tuo lato. Io catturo. Si. Catturo qui. Si. Catturo qui. Matteo Warhammer. Catturo un altro. Ok. E infine con il drone cognitivo raccolgo. Ok. Quanto sei? Sono perfettamente a 6. Sei ancora a 6. Allora. Vedi chiaro i miei amici problemi. Si. Quindi penso tu lo distrui. Si. Riprendo gli archivi. Ok. Allora. Iniziamo a fare un po' di sdozzo. Ok. Ah. Quindi. Ti rimetti mano. Mi vado. Poi. Allora. Sparo un danno. A lei. E. A lei. A lei. Quindi. Due non prendono un danno. Due prendono un danno. Si. Poi. Gioco questo. Il gioco di pistina attaccatore. Una alla volta. Lei. Ok. Combatti. Lui. Non può. Si. C'è la provocazione. Scia la provocazione. Quindi per forza non posso lui. Aia. Fai gli altri. Vabbè. Quindi do per forza attaccare lui che non si fa nulla. Si. Poi lui si fa così. Il pistina. Combatti. Si. Contro di lui. Però posso ricombattare. Si. Tu subisci due danni. Si. Quindi ti rimpianti in mano. Goblins e o i giochi. Immagino. Si. Devi cambiare di posizione. Non puoi giocare verso te. Ok. Lui lo ripristino. Si. Ovviamente. Combatti. Si. Contro di lui. Ah. Luzione. No. Si. Però posso ricombattare. Con lui. Troppo picche. Mi servono due ember. Perché ti ucciso due. No. Ci dovrebbe essere lì. Due. Si. Uno. Nessun'entrata. Si. Si. Io forgio. Si. Due. Quattro. Si. Chi ha un sanctum. Sì. Il rimpianto. All'era. Gioco. Lo scudo. Attivo lo scudo potentially scello. Reattogo con il cavaiere grigio. Quindi lui viene ripristinato e combatte contro Groom, subisce danno, con questo vedere la porta attacco lui, quindi lui mi subisce 5 danni per armatura, il mio era un 7 per effetto di porta, lui mi subisce 5 danni, quindi lui muore e questo mi fa attivare energia creativa, ah così ti cura al massimo, per un'ambra lui mi ha curato fino a rimanere con un solo danno, in più ottengo 2 ambre perché ho curato 4 pilanni in questo modo, e sono di nuovo in check, a 7, a 7, si, mi rifaccio la paga di prima volta, io faccio la prima chiave dopo tanto tempo, gioco troppo da proteggere, 2 match, immaginavo, mi rubi 1, si prende un altro per la 2 match, poi gioco questa, ops, se dovessi essere più di 3 bravo, non puoi rendicare il suo gioco, 8 rosaglio, mi rubi 2, rubo, ottengo, ottieni scusa, mi scusi, quindi otteni 2, ah ma... do coloro e concludo il turno. Io faccio? Si. Mi dispiace. Perchè? Potevo... Ah! Ma c'è bene! Sgravo! Vabbè! I miei ruba ce li ho negli ombre, ma non li ho visti! Clicchiate perchè potevo fare eh! Va bene, questa l'hai vinta tu! Ragazzi oggi è stato un video senza Jack perchè deve fare robe strane! Che l'ho vista tutta la prima! Pappapottiti! E lo sai che per far capire? Eh! Sì, ne ho due! Ne ha due nel marzo, non è troppo forte! Dopo questa saluta con insieme di clienti vi salutiamo e speriamo mettete e iscrivetevi, mi piace e di solito buiate dai! E condividete! E conoscete! E conoscete! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Ciao!